ciao a tutti e come sempre bentrovati bentornati benvenuti se siete nuovi sul canale siete su Cartomantique dove tutto quanto era in norma e oggi è arrivato il momento di vedere come sarà la settimana che sta arrivando quindi quella dal 25 al 31 di marzo quindi anche quella che comprende Pasqua settimana importante dove spero che la maggior parte di noi riuscirà almeno a riposare un pochino e a trascorrere qualche momento un pochino più di relax nel frattempo qui invece non mi rilasso mai e facciamo insieme questo video che ormai è tradizione ricordate che sta per arrivare anche poi il Gran Tableau per il mese d'aprile vi ricordo che come sempre anche questa è una stesa rivolta a tutti senza distinzione di genere o di orientamento che soprattutto qui dove faremo il Petit Tableau la carta di riferimento è questa la 29 quella della Dama faremo prima un'apertura con Grange poi appunto il Petit Tableau è una stesa giorno per giorno trovate poi i link alle varie parti del video nella descrizione quindi ricordate questo è un interattivo nel senso che è possibile spostarsi da una parte all'altra del video ma non ci sono varianti proprio perché sono le energie generali della settimana trovate appunto tutto nella descrizione e sempre nella descrizione anche tutte le altre informazioni di cui poteste avere bisogno riguardo a Cartomantic quindi al canale il sito alle consulenze ai corsi bene direi che è il caso di cominciare perché una stesa piuttosto insomma corposa quindi iniziamo subito con l'estrare tre carte da qui e vediamo quale sapete che da qua esce sempre un messaggio generico oppure molto spesso esce un po il tema della settimana quello che caratterizzerà maggiormente i prossimi sette giorni quindi dal 25 al 31 di marzo vediamo un po abbiamo 1 2 3 se sentite mugire come sempre io ho il mio suggeritore a quattro zampe quindi non vi preoccupate non avete sbagliato canale sono sempre io allora vediamo un po cosa abbiamo qui dunque il sante di cuori le nostre parche e il 3 di quadri quindi castore e con luce allora sono tanti gli spunti che possiamo avere da questa stesa vediamo un attimo la prima cosa che notiamo è che la carta centrale è proprio quella che nel ciclo dell'ordre detto e quindi si riferisce al segno della riete e ci siamo in pieno quindi direi che la stesa è super centrata no è una carta comunque molto positiva che dà un impulso importante a qualunque nuova iniziativa soprattutto in amore ma non soltanto lo dico in amore perché chiaramente la carta associata per quanto riguarda la cartomanzia quella del fante di cuori quindi favorisce le storie nuove o comunque insomma il romanticismo tutti quegli effetti quegli elementi che ci sono soprattutto agli inizi quindi un nuovo impulso una nuova spinta entusiasmo attrazione ma anche per quanto riguarda altri settori perché comunque è l'energia positiva della novità di ciò che sta partendo l'entusiasmo prima che arrivino blocchi o seccature dalla parte da parte esterna quindi proprio l'ariete la primavera tutto ciò che inizia tutto ciò che per adesso è destinato a fiorire quindi certamente se la vediamo come una previsione siamo davanti a qualcosa che ha delle ottime possibilità di sviluppo se lo guardiamo proprio come un clima generale oltre a centrare questa stesa ce ne fosse bisogno proprio nel periodo in cui la stiamo facendo è anche comunque un'atmosfera generale in cui tutte le iniziative soprattutto quelle fresche non quelle appena messe sul piatto hanno un'ottima possibilità di andare a buon fine soprattutto se andiamo a vedere la carta sinistra questo nostro 3d pic che appunto fa riferimento alle tre parche e quindi non semplicemente alla alla nostra antipatica come la chiameremmo oltre a post quella che taglia il filo le parche sono tre nella carta generale nel soggetto centrale poi naturalmente a seconda di dove andiamo a parare c'è quella che inizia quella che fila e quella che taglia e to surprise surprise abbiamo proprio quella che taglia essendo prima abbiamo un ulteriore elemento questa novità tutto ciò che di nuovo nasce come rinascita dopo una chiusura dopo un taglio quindi siamo in un momento siamo tutti perché queste sono energie generali in un momento molto particolare molto propizio per tutto ciò che nasce o rinasce soprattutto è un incoraggiamento a chi dovesse avere dei dubbi ho fatto bene a tagliare con questa situazione ho fatto bene a chiudere con questa persona ad andarmene dal lavoro insomma a fare un qualunque giro di 180 gradi sì oppure riuscirò mai a riprendermi da questa chiusura da questo taglio da questa mazzata beh insomma la carta centrale ci mette al sicuro da qualunque strascico non che possa arrivare da un'esperienza del genere che sia stata di nostra iniziativa o no quindi è anche di buon auspicio per nuove storie sentimentali per una ripresa dopo una delusione sentimentale forte naturalmente tutto nel range temporale di massimo una settimana due facciamo pure un mese nel passato non di tre anni fa perché è una cosa come vedete proprio a ridosso di questo fante di cuore per tutto quello che riguarda nuove iniziative nuove idee cose in fermento nuovi contatti progetti anche qui ottima energia soprattutto quindi non escludendo ma soprattutto se veniamo da un periodo in cui abbiamo preso qualche mazzata ecco o abbiamo deciso di chiudere completamente con un'esperienza la nostra vita parlo in questo caso lavorativa o economica quindi tutto ciò che è nuovo e favorito ciò che è nuovo come reazione a una ferita ancora di più qui sono loro che parlano quindi non è un'addolcire la pillola anche perché loro sanno sempre invece come rovinare la festa no qui è solo un avvertimento attenzione alla comunicazione questa carta oltretutto vogliamo pure anche collocarla tutto ciò che nasce qui può essere collocato entro il segno dei gemelli qui sì possiamo permettercelo perché a differenza degli altri interattivi questa è una stesa temporale no interattivi generici dove non è specificato il tempo possiamo sono validi nel momento in cui li apriamo qua stiamo facendo riferimento a un periodo specifico da 25 al 31 di marzo entriamo subito così nella lettura con la carta che fa riferimento al segno della rete qui ci dà un suggerimento lo preferisco al termine avvertimento che è valido fino a tutto il segno dei gemelli ed è quello di stare molto attenti alla comunicazione cioè a non rimanere isolati a non fermarci davanti magari a un atteggiamento un po' chiuso da parte di chi c'è accanto non areniamoci lì cioè tutta questa bella energia va poi saputa maneggiare quindi se sono situazioni nuove sentimentali che in questo momento ci stanno gasando a più non posso ricordiamoci che la chiave per far poi decollare bene tutte queste storie la comunicazione comunicazione non nel senso semplicemente di parlarsi o di dirsi cose ma di avere il coraggio di andare a fondo se qualcosa non va altrimenti si resta come queste due palme molto carrucce una di fianco all'altra vanno anche avanti cioè nel senso restano ferme le palme speriamo se no è un'immagine un po' fricchi però sono lì non gli succede niente ma appunto non succede niente quindi non lasciamo le cose in superficie ancora più importante se stiamo parlando di lavoro di affari tutto parte tutto parte bene però ecco se ci fossero dei problemi o comunque dei dubbi da risolvere facciamolo subito nel corso di questa settimana nel corso di quella dopo se mai ma avevo tempo fino al tempo al periodo del segno dei gemelli per organizzare per impostare la comunicazione direi che oggi più precisa di così anche come tempi visto che giustamente comunque sempre la maggiore curiosità da parte di chi si fa reggere appunto le norman con grandi norman come sanno bene i corsisti che spero si siano riprese dalla fatica che è con cui abbiamo fatto il corso su Grandjeu magari per alcuni versi in modo un po' opinabile un po' discutibile però meno dei tempi si occupa qui direi in modo perfetto ok quindi teniamoci questa così direi questa previsione questo auspicio comunque l'indicazione del clima della settimana mettiamo via questi lenzuroni che non ci servono più è arrivato il momento di fare il nostro petit tableau per la settimana ricordate che il petit tableau è una stesa tematica dove qui scegliamo di non fare di non scendere scusate scegliamo di non scendere io decido di non scendere le carte tematiche perché usciranno quelle dei temi principali di questa settimana andiamo al primo taglio ecco qua direi che questo taglio non fa che confermare quello che abbiamo visto comunque nelle tre carte del Grandjeu qui abbiamo qualcosa di insomma chiusino diciamo non è una falce come avrebbe potuto essere una carta simile al nostro tre di picche però comunque situazioni diciamo piuttosto appunto chiuse un po' ingessate con questo nuovo impulso quindi tutto quello che è ancora un po' così sotto il nostro controllo comunque che merita la nostra cautela abbiamo l'energia nuova fresca del bambino quindi nuovi inizi adesso naturalmente questo è il clima generale andiamo a vedere nel secondo taglio ok e ce l'ho fatta allora andiamo a vedere il nostro secondo taglio per questa settimana perché dobbiamo fare appunto un petit table vedremo anche quali carte tematiche usciranno può venire un petit table lunghissimo se escono tutte oppure pochi minuti non lo sappiamo uh uh eh visto che qua abbiamo proprio la falce cioè qui questo è proprio rivolto in modo particolare non tanto la mia stesa ma questa settimana di particolare interesse per tutte le persone che sperano in una ripresa dopo una ferita dopo un taglio dopo una rottura un'interruzione un cambio tutto quello che volete che però è rappresentato dalla falce quindi tanto morbido non è stato no quindi andiamo soprattutto questa settimana a vedere che cosa capiterà alle persone che sentono di avere questa sensazione non è detto che per forza debba essere accaduto qualcosa di plateale no basta anche semplicemente sentirsi in questo modo come se si fosse chiusa una tappa della nostra vita magari le energie sono splendide perché speriamo che proprio sia l'alba di un nuovo periodo più fortunato siamo però così quindi anche qui confermiamo un po' le indicazioni di prima e infatti abbiamo un cavaliere uh uh abbiamo anche un'altra persona andiamo un po' ok allora beh insomma come nuova energia direi che non siamo proprio messi male vediamo cosa capiterà lì anche se qui già lo sappiamo che carta c'è non bisogna avere paura qua non mi raccomando la settimana in cui bisogna osare molto non abbiamo la carta tematica dell'amore questo lo dico perché so che è la più richiesta è quella più desiderata però abbiamo la carta dell'altra persona quindi si riferisce direi per quanto riguarda sentimenti a situazioni molto concrete anche nuove ma situazioni molto concrete non è questa una stesa che fa considerazioni diciamo di tipo filosofico almeno per quanto riguarda i sentimenti ma va direttamente sulla persona interessata abbiamo l'amore e le finanze i soldi anche urca abbiamo anche le questioni legali insomma comunque questioni che hanno bisogno di altri che se ne occupino ma anche questioni ufficiali quindi sapete bene ma soprattutto quello che è impressionante per me dal mio punto di vista di lettore è il collegamento diretto che c'è con la carta dell'altro ricordate l'altro o l'altra a me non interessa no? queste sono stesse appunto che non tengono presente se è un altro o un'altra stengono l'altro da sé quindi è una persona che può risultare di nostro interesse io direi che se adesso stiamo sperimentando un pochino di confusione o di dubbio riguardo adesso vediamo quali situazioni in questa settimana sicuramente entriamo in un periodo di nuova energia di nuovo proprio slancio abbiamo l'energia young quindi più determinati a prendere iniziative a buttarci qui possiamo aver avuto diverse cose qui c'è un messaggio da parte di qualcuno comunque un tipo di comunicazione da parte di qualcuno che ci può interessare sentimentalmente che però ci esce con la volpe quindi non ci convince un po' molti avranno avranno sperimentato questo una persona che comunica può essere già il nostro partner o anche no una persona che comunica in modo strategico e astuto apparentemente in modo schietto però non ci vedete chiaro quindi per alcuni di voi potrebbe essere successo questo quindi magari qualcuno si aspettava un messaggio oppure un messaggio da zero di una persona che ci interessa persona comunque che noi sappiamo essere o impegnata o furbacchiona perché bisogna sempre pensare che ci sia Belzebù dall'altra parte magari solo qualcuno di cui noi sappiamo non so perché la dote principale non è esattamente la fedeltà quindi volpe qualcuno che cerca un po' di mostrare il proprio lato migliore nascondendo sotto il tappeto gli altri che si è manifestata con il sole quindi dicendo eccomi qui nel mio infinito splendore ma non ci vedete chiaro così come allo stesso tempo ognuno poi sa che cosa è successo possono essere successe anche le due cose insieme questa è una comunicazione di lavoro molto chiara sulla quale però voi proprio tutta questa chiarezza non vedete l'energia generale ugualmente è la stessa c'è una comunicazione che riguarda qualcosa su cui vi viene detto che si sta facendo chiarezza ma voi tutta questa chiarezza non la vedete e quindi abbiamo davanti da parte vostra un mettervi in gioco quindi un mettervi in prima persona per cercare di fare questa chiarezza a tutti i costi quindi un'energia importante dove sentite siete saremo anzi qui tutti con questo quadrifoglio sulla testa che è sempre di buon auspicio quando si tratta di cogliere al volo situazioni fortunate e anche la sensazione di sentirsi fortunati sentirsi in un buon momento e anche garanzia del fatto di essere in un buon momento con sotto l'albero quindi anche questa carta ci lascia molta serenità molta tranquillità anche un po' di vista lunga nel senso ci sentiamo di poterci permettere valutazioni su cose che magari in passato avremmo dato per scontato ci saremmo magari sentiti baciati dalla fortuna per un messaggio di questo tipo adesso invece sentiamo di essere molto stabili molto centrati e diciamo sì mi fa piacere però non ci vedo chiara forse anche per lavoro non per forza con un volpone o una volpona questa carta sotto a me piace sempre tantissimo perché è la carta dell'equilibrio psicofisico essendo nella parte delle energie proprio più profonde direi che meglio di così non poteva essere collocata così come mi piace sempre molto un quadrifoglio in questa posizione perché intanto dà allegria quindi l'allegria è una fonte di energia perché si autoricarica la nostra dinamo quindi averla nella testa è sempre una bella cosa allegria, ottimismo è vero è una carta che allude spesso anche a una certa dose di superficialità io preferisco chiamarla leggerezza sono delle cose molto diverse e per una volta sono molto contenta che entriamo in una settimana dove sì la leggerezza prende il posto di tutti questi discorsi che altrimenti spesso troviamo in stese così impegnative sopra carte di autonarisi, di approfondimento per carità cose che io caldeggio sempre però anche se ogni tanto ci prendiamo una pausa e ci divertiamo c'è proprio anche voglia di divertirsi voglia di trovare nuove occasioni e anche voglia di mettersi in gioco quindi direi che se anche come ci ha segnalato il taglio e come ci ha segnalato il grange siamo riduci da situazioni, da esperienze non proprio divertenti adesso c'è veramente questo nuovo desiderio di ripresa non dico rivincita perché qui non c'è desiderio di prendersi uno smacco su nessuno c'è proprio voglia di riprendersi indietro una parte di leggerezza e di allegria bene, teniamo presente che, perché qui dobbiamo tenerlo presente andiamo verso un periodo in cui magari un giorno o due di vacanzina ce lo prendiamo tutti quindi ci sta anche che magari ci pregustiamo per esempio qua vedete molti partiranno per un viaggio e qua è davvero l'ancora che viene lasciata e la nave parte fa parte proprio della stesa 9 della stesa della lettura del consultante è anche di buon auspicio per tutte le persone che appunto decidono hanno deciso, hanno in programma un viaggio, uno spostamento magari anche solo un giorno, due giorni auguro naturalmente a tutti voi che sia molto di più però già possiamo metterci in cascina questa bella previsione su tutti coloro che vogliono fare uno spostamento vogliono andarsene, andrà tutto bene o comunque saranno anche cose divertenti c'è anche l'aspetto che già da adesso, quindi magari anche prima di lunedì la sensazione è che tutte le situazioni un po' polverose, un po' nebbiose un po' poco chiare stiano piano piano fluidificandosi e difatti è così, questo vale sia per le amicizie che per i rapporti di lavoro e anche per i rapporti sentimentali è proprio il caso di dire che molte situazioni hanno bisogno di maggiore fluidità visto che il primo dei tanti nighting comunque è proprio la torre quindi fluidità nel senso che troveranno appunto maggiore equilibrio e leggerezza le situazioni che adesso sono un po' ingessate per orgoglio, per prudenza, per situazioni effettivamente che invitano a starcene un po' nel nostro quindi qui per la prima volta dopo tanto tempo c'è ancora l'allusione alle relazioni chiamiamole clandestine, insomma quelle dove almeno uno dei due è impegnato quelle affollate, ecco c'è una netta ripresa, una fluidificazione poteva esserci stato un periodo di difficoltà dovuto, insomma dovuto magari proprio l'impossibilità di vivere un rapporto con i ritmi soliti, con i ritmi giusti giusti, insomma con i ritmi di una coppia che non deve farsi troppi problemi quindi qui invece abbiamo una fluidificazione quindi c'è la ripresa anche di complicità, di armonia, di desiderio di stare insieme e soprattutto la possibilità di farlo non so come dirvi che non ci sono ritorni in modo proprio plateale però c'è la ripresa dell'entusiasmo questa è proprio la caratteristica ripresa dell'entusiasmo in un po' tutti i rapporti quindi rapporti sentimentali così come la prima, diciamo, primo gruppo di persone è proprio quello di persone impegnate che stanno vivendo delle relazioni di questo tipo c'è una ripresa appunto del sole e della comunicazione e dell'allegria questo sole, questa allegria, questa leggerezza va un pochino a attenuare, a fluidificare i rapporti in tutte le coppie quelle con difficoltà di ogni tipo quelle soprattutto che hanno difficoltà ricordate di comunicazione quelle che magari da un po' non riescono più a comunicare liberamente dove si è un po' ingessata l'argomento conversazione quelle dove soprattutto ci sono anche sospetti dove non riuscite più a vederci chiaro nell'altro dove pensate di aver notato qualcosa che vi possa insospettire in questo caso non vi dico che vi vanno gli sospetti ma che si fluidifica l'atmosfera e riuscirete a parlarne in modo aperto con l'altro un appunto a chi magari sta pensando col cavolo che gliene parlo lo sto pedinando quindi non riguarda me non riguarda anche voi perché comunque questa fluidificazione che vediamo con i pesci proprio su questa torre è agevolare il passaggio di energie agevolare proprio il flusso finalmente quindi se per caso io spero di no che siate veramente tre su tutti quelli che siamo qui se per caso state incontrando delle difficoltà a vederci chiaro sull'altro perché vi siete messi di impegno lo state pedinando nascosti dentro un cespuglio se fino adesso è stato difficile diciamo che questa settimana sarà più facile ottenere dei risultati no naturalmente tenete voi se vorrei presente il modito che c'era nelle tre carte del grand jeu va bene cercare le cose magari di nascosto magari non avete altre possibilità quindi lo dico questo prima che sembri che voglia fare della facile ironia so che quando si arriva a cercare di avere delle informazioni in modo indiretto perché molto spesso la possibilità di farlo direttamente non c'è e quindi non è una forma d'astuzia ma è un tragico ripiego di cui si farebbe a meno ma diciamo che ricordiamo che quella parte diceva il più possibile cercate di comunicare allora se anche fosse che state cercando delle informazioni per vie traverse innanzitutto sarà più facile averle ma vi dico subito che sarà anche poi più facile farne un uso non solo corretto ma anche positivo che vi dia poi dei risultati qui che spicca sono anche le nuove conoscenze soprattutto per chi va in vacanza mi spiace non vuol dire che chi se ne sta a casa non conosce nessuno però sono favoriti gli incontri durante gli spostamenti poi siccome quegli spostamenti sono soprattutto marcati dall'atmosfera di viaggi allora io dico così però se magari vi spostate per portare in giro il cane è quello l'ultimo spostamento che fate siete in cerca di nuove conoscenze allora è più facile che conosciate qualcuno mentre uscite col cane che mentre siete al lavoro cioè tutto quello che comporta uno spostamento è associato questa settimana a nuove conoscenze come vi dicevo appunto non essendoci la carta tematica dell'amore più centrata sulla persona qui abbiamo proprio questa energia forte di nuovo impulso nuova comunicazione nuova possibilità di fluidificare i propri rapporti con gli altri la nota ulteriormente positiva è che è dall'altro o dall'altra che vengono questi impulsi noi abbiamo un cavaliere con un orso quindi un movimento in crescita verso di noi quindi è vero che c'è da mettersi di impegno per comunicare è vero però anche che troveremo terreno fertile quindi ricordatevi un po' le superstar in questa settimana sono le coppie grandestine senza non togliere le altre le coppie che stanno sperimentando difficoltà soprattutto di comunicazione o di dubbio quindi di maggiore chiarezza vedete avranno questa settimana a disposizione per riuscire a risolvere molti di questi problemi davvero anche se non ci vedete chiaro su qualcuno oppure non riuscite a capire il comportamento di qualcuno questa è una settimana direi d'oro in cui usciranno molti dettagli importanti dichiarazioni no elementi che vi fanno capire cosa pensa l'altro sì elementi importanti elementi consistenti quindi non un mazzolino di fiori che comunque è sempre molto carino ma prese di posizioni messaggi importanti palesarsi davanti a noi tutte cose statements l'altro viene verso l'unica si piazza lì ci ascolta certo l'energia iniziale è sempre un po' di torre però ricordatevi che si fluidifica quindi anche se vi arrivassero appunto messaggi importanti ma magari all'inizio non super smielati tenete duro perché è un attimo poi si fluidifica tutto aspettatevi delle constatazioni importanti delle affermazioni importanti da parte di chi fino adesso magari si è un po' nascosto dietro una coltre di nebbia ovviamente come dicevo per i nuovi incontri sono favoriti soprattutto quelli durante gli spostamenti anche in questo caso vi posso dire che non dovrete fare molta fatica perché sarete molto probabilmente così destinatari di un avvicinamento quindi qui c'è qualcuno che anche un po' con un'aria volpina quindi che cerca di esercitare il proprio fascino viene verso di voi quindi se vi piace qualcuno insomma non dovrete fare sforzi per cercare di capire come arrivarci conoscete qualcuno durante uno spostamento sarà subito reciproco e questa persona verrà a cercarvi proprio la vita comoda in vacanza anche su questo altro io direi che per l'amore qui insomma questa settimana è un po' è un po' tranquilla oddio non è che non mi ha proprio visto niente la cosa che mi piace molto è che comunque questa energia di leggerezza riuscirà a stemperare anche eventuali problemi anche gravi o apparentemente gravi per quanto riguarda le amicizie se c'è qualcuno con cui c'è stato un po' di attrito ultimamente magari un po' di incomprensioni questa settimana approfittatene perché c'è proprio un'energia di rinnovo di sotterrare la scia di guerra e di cominciare a chiacchierare chiacchierate però ricordatevi approfittate della possibilità di comunicare forte e chiaro questa settimana ne vale davvero la pena grandiosissime notizie per il lavoro o chiudete un contratto sul quale stavate da mesi quindi finalmente arriva il risultatone ufficiale con tanto di chiarezza dal punto di vista economico qualcosa che vi può garantire non solo la tranquillità ma anche gli onori per un bel po' nel senso che qua parlo di chiudere contratti o accordi dove verrà evidenziata la vostra bravura il vostro valore e quindi di questa cosa andrete avanti a potervene perché non vantare in futuro questo ovviamente se la vostra attività comporta la chiusura di contratti quindi la stipula di contratti è la prima cosa la più importante che c'è segnalata in questa stesa se invece siete in una realtà dove non chiudete contratti ma se fate tutt'altro qui c'è comunque un forte riconoscimento da parte di un vostro superiore anche economico anche una proposta di miglioramento economico lo so che è difficile magari subito vedere la cosa di buon occhio avrete un po' di sospetti potreste dire troppo bello per essere vero questa volta no sapete che se c'è da sospettare qualche cosa io metto subito in luce perché insomma di fregature ne prendiamo già abbastanza questa è veramente una situazione molto importante dove viene comunque riconosciuto un merito mi viene proposto una crescita soprattutto economica ma tutto molto regolare tutto molto regolamentato e anche una crescita perché no di prestigio qui c'è proprio una crescita personale quindi tenete presente che ma non può che essere così qui c'è la possibilità che magari vi si dica poi ne riparliamo ne riparlate riparlate ne ne riparlerete quindi tenete ben presente che non è una cosa che si esaurisce qui ma potrebbe anche essere qualcosa che poi verrà discusso nelle settimane a venire comunque crescita anche qui e vi sentirete qui c'è proprio questa sensazione vi sentirete per un attimo come se vi avessero risarcito per qualche situazione brutta nel passato non necessariamente nella realtà in cui state lavorando ma anche qualcosa appunto di brutto vissuto in altra realtà lavorativa tenetevi pronti per una comunicazione già importante questa settimana per una nuova posizione se state aspettando la posizione che vi verrà offerta quindi verrete contattati poi avrete tempo se mai di pensarci adesso poi arriviamo a vedere cosa vi dicono vi dicono qui potrebbe venirvi proposto un lavoro laddove avete chiesto presentato il curriculum dove state aspettando una risposta la risposta arriva ma è diversa da quella che vi aspettate non è senso che vi danno di meno purtroppo qualcosina secondo me sarà anche questo il problema ma è come se vi dicessero tu ci hai contattato per fare questo noi ti prendiamo per fare quest'altro pensaci un po' perché se prendi quest'altro c'è possibilità di carriera altrimenti se prendi la prima possibilità è qualcosa che dura poco cioè potrebbero proporvi di svolgere mansioni diverse proprio da quelle per cui avete fatto richiesta capisco che possiate storcere il naso però non sottovalutate le maggiori possibilità di carriera e di guadagno in questa controproposta che vi stanno facendo come vedete qui ecco anche senza sparecchiare la vostra stesa come vi dicevo è proprio caratterizzata da un desiderio finalmente di bellezza di leggerezza di togliervi un po' di preoccupazioni e qui lo dice molto chiaramente prima di tutto non lottate contro corrente questa settimana avete tanta energia mi raccomando perché altrimenti l'energia finisce quindi senza che questo voglia dire essere dei leggeroni prendete soprattutto il buono cercate magari di rimandare o di spogliare negli aspetti negativi tutto ciò che lo permette tenete presente che questa settimana potrebbero uscirvi anche un po' di soldi non drammatizzate questi soldi potrebbero anche uscire simbolicamente in questa situazione di proposta lavorativa nel senso che potrebbero dirvi ok sei dei nostri questo per le nuove posizioni però possiamo darti un po' meno cosa fai prosegui proseguite il mio consiglio questa settimana non per paura di perdere il tram ma perché c'è proprio questa energia rinuncio un pezzettino e poi decollo quindi ovviamente sempre i limiti del rispetto e del buon senso se gli offrono pane e cipolla credo che non sia necessario che vi dica io di rifiutare spero che sappiate anche voi come farvi valere però se ci fosse un piccolo ritocchino piccolo e vi attira comunque l'idea di una sfida nuova non abbiate paura questa volta vale la pena ecco questo è l'energia mi raccomando perché sotto 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 nelle vostre energie inferiori c'è ancora la paura che tutto sparisca questa mancanza di fiducia nel lasciarsi andare come se ci fosse la vocina che dice lasciati andare che poi ti arriva la mazzata no meglio se resti in guardia perché è meglio che non ti fidi allora se la mazzata deve arrivare arriva lo stesso io il consiglio che vi do è comunque di godervi i numerosissimi momenti positivi che ci saranno questa settimana i numerosissimi momenti anche di perché no di autostima che parte grazie anche a ciò che vi dicono gli altri fate il pieno fate il pieno perché state per avere bisogno proprio perché nella vostra vita stanno per succedere cose importanti quindi iniziano a muoversi positivamente faccende sentimentali amicizie novità nel lavoro e anche i viaggi quindi non volete partire senza energia no? grandi altre cose non è che le possiamo vedere se non le finanze dove appunto stabilità e un po' di paura no? l'abbiamo visto anche in queste energie non abbiate paura sempre quando c'è un cambio si ha paura è normale quando si sente che stiamo per passare di livello ricordatevi che l'essenza di questa settimana non è proprio di essere catapultati in un nuovo periodo nella nostra vita quindi potrebbe essere appunto che ci sentiamo un po' a rischio un po' come delle girandole non sappiamo bene dove stiamo andando e quindi la paura di andare avanti e tentazione di lasciar perdere no non ne vale la pena poi ovviamente ognuno fa quello che vuole però le cose sono sinceramente messe molto ma molto bene certo ci saranno questa settimana delle spese soprattutto per i viaggi o per gli spostamenti appunto le finanze sono solide non abbiate paura di quello che verrà non è il momento non dico di non essere previdenti questo è il momento in cui farei veramente pieno di energie notando tutto ciò che sta andando bene e tutto ciò che gli altri vi danno come riconoscimento sarete una persona di riferimento per gli amici è il momento molto di catalizzatore avrete una funzione catalizzatrice per i gruppi di amici quindi insomma non vi lamentate se magari a fronte di situazioni anche un po' conflittuali tutti vengono da voi un po' una spalla enorme su cui piangere in realtà non siete per piangere questa settimana verranno da voi perché siete anche fonte di allegria quindi è una settimana in cui passarsela bene con la bella sensazione di poter anche aiutare gli altri magari ecco se c'è questo proprio un dettagliuccio se c'è sul lavoro o nelle amicizie quella persona inutile che diciate di no c'è sempre una persona che sta antipatica quella persona lì io vi consiglio questa settimana complice magari anche il periodo di vacanze state alla larga non cercate battaglia leggerezza anche qui potrebbe qualcuno farvi girare pesantemente le scatole non raccogliete anche qui l'energia prendete il buono prendete che magari la vedete due giorni su cinque perché poi va in ferie in quei due giorni voglio dire va alla macchinetta del caffè e voi andate andate a incipriarvi il naso non dovete incipriarvi il naso state dove siete non dico di evitarla non per paura ma perché c'è un pochettino così un'energia un po' sporchetta come se potesse verificarsi qualche battibecco che altro non farebbe che abbassare l'energia a voi non andiamo a regalare le nostre energie a nessuno mai a meno che non sia indispensabile inutile dirvi che qui se state aspettando come sempre con questa chiave con questa torre scusate soluzioni risposte risarcimenti questa settimana poco poco non pochi risarcimenti ma poche notizie in questo senso e proprio ancora siamo nel lupo quindi vengono rimandate alla settimana successiva altro tanto non c'è perché come abbiamo visto le carte tematiche sono quelle che sono direi che comunque per quello che si poteva fare tanto secondo me è stato detto tenete presente che insomma sono tutte energie che poi vanno a proiettarsi verso fine settimana e oltre parlo come Buzz Lightyear insomma la parte più importante direi che arriva tra giovedì venerdì no e poi insomma poi è Pasqua adesso non è che siccome è Pasqua deve succedere chissà che però è molto probabile che ci siano anche lì ritrovi qui avete notato che non c'è la casa non c'è il giardino qui non fa nessun riferimento alla famiglia o ai ritrovi ai viaggi ecco quindi anche su questo se dovessero esserci reunion familiari o di amici va tutto bene che vi devo dire se non escono proprio le carte tematiche vuol dire nulla di rilevante quindi può andare bene anche così non è che tutte le volte deve succedere chissà che cosa quindi adesso andiamo a prenderci il resto del mozzo e andiamo a vedere con la stesa giorno per giorno se qualche altro particolare salta fuori su questa settimana se no direi che comunque non possiamo lamentarci sapete che adesso le mischio un po' in tutti i modi perché non vorrei che mi si ripresentassero le stesse sequenze vediamo vediamo un po' oh che bello si è girato all'albero vedete equilibrio e ripresa come se per un po' potessimo fermarci e ricominciare a nutrire le nostre energie andiamo un po' oh qui arriviamo alla vigilia di questa settimana un po' provatini come se dicessimo madonna non finiscono mai le rotture di scato fuori da una dentro in un'altra arriviamo alla fine di questa settimana questa quella in cui stiamo facendo questa lettura tutti insieme arriviamo a lunedì dicendo basta non ne posso più topi frusta è un continuo è stato un continuo probabilmente anche periodo di spese ricorrenti preoccupazioni anche per quello insomma questa settimana arriviamo al 25 di marzo lo ripeto questa è una stesa temporale un altro che quadrifoglio sulla testa con un grande desiderio proprio di essere un po' più leggeri intanto mettiamo questa è la carta che ci caratterizza questa settimana e questo è con la quale entriamo in questa settimana facciamo i nostri mazzetti è come se niente fosse è anche a rovescio sabato venerdì giovedì dove ho trovato un altro canale dove riesco a dire anche i giorni della settimana a rovescio sono veramente mi stupisco di me stessa allora lunedì eccola lunedì qui viene proprio evidenziato una situazione dove i sentimenti ci sono ma non sono chiari generano dubbi difficoltà anche di scelta e quindi sia la persona che ci interessa ma sia noi anche perché noi alla fine poi in modo un po' così un po' monoblocco ma usciamo lunedì proprio si inizia con questa sensazione di dover trovare chiarezza nei sentimenti dell'altro non è certo questa è una stessa dove per amore ci parla di nuove conoscenze qui vengono messe in evidenza per esempio anche le situazioni dove ci sono più di una persona perché abbiamo bivio proprio sull'ufficialità quindi qualcuno che nei nostri confronti guarda noi e l'altro quindi queste sono anche situazioni di difficile scelta è un giorno importante quindi il giorno in cui magari se appunto si riuscirà se riuscirete inizierete a cercare di comunicare chiaramente con l'altra persona per mettere a posto dubbi insomma problematiche che vanno superate vanno superate per poter andare avanti la bella notizia è che possiamo contare sul fatto che l'altra persona pur con tutti i suoi dubbi pur con tutte le sue problematicità è innamorata quindi i sentimenti ce li ha no? bisogna magari ecco trovare un modo migliore per viverli perché questo lunedì inizia proprio col nuvolone no? quindi ci sta dicendo mi raccomando usciamo da questa energia ecco come ci usciamo noi parlando certo ho capito però attenzione perché qui bisogna fare un doppio ragionamento fate attenzione molta attenzione a chi vi dà delle informazioni riguardo la fedeltà di qualcuno questo è un fatto diciamo che prescinde da tutto quello che abbiamo visto nel petit tableau facciamo questa stesa apposta per aggiungere dettagli fatti e tutto quello che non abbiamo visto prima attenzione perché c'è proprio chiarissima la presenza di qualcuno che fingendo sia vostro amico vi mette la pulce nell'orecchio circa la fedeltà della persona o che avete accanto o che sperate di avere accanto e lo fa per interesse suo personale cosa vuol dire che o è qualcuno che vuole essere al posto dell'altro quindi che vi sta vi ha preso di mira quindi vorrebbe avere una storia con voi o la vorrebbe con l'altra persona o anche magari per pura vendetta perché chissà quando chissà come chissà perché ritiene di aver subito da voi un torto state molto attenti non fatevi prendere dal furore non credete a tutto quello che viene detto perché al 99% non è vero qui c'è proprio il rischio di lasciarsi irritire dal gioco sporco di qualcuno e è qualcuno che va proprio a colpire dove siete più vulnerabili non credeteci tra l'altro qui c'è anche la bella notizia che se avete dei sospetti di essere traditi no no non è così naturalmente va anche a ritroso se vi è stato detto qualche cosa tenete presente che non è vero e questo mercoledì lo dedichiamo a tutte le persone che da molto tempo si sentono sole e che quindi hanno perso anche la volontà o la così la dimestichezza col mondo dell'amore col mondo dei sentimenti con sentirsi interessanti e sentirsi affascinanti qui c'è proprio una rinuncia a mettersi in gioco e invece qui c'è una nuova conoscenza c'è un nuovo invito c'è anche da parte di qualcuno che forse avevate messo da parte quindi c'è sia la new entry sia quale qualcuno che sembrava sparito e che invece torna a farsi sentire è una giornata importante perché potreste ricevere un invito sia per il giorno stesso ma anche per uno dei giorni restanti della settimana questo è proprio un bel recupero recupero del gusto di stare in mezzo agli altri di frequentare gli altri e soprattutto di mettersi in gioco mettersi in ordine mettersi i carucci e dire oh adesso sì e entrare nuovamente in un mondo che avevamo dimenticato quello del divertimento perché non c'è niente di male a divertirsi anzi non è che bisogna sempre stare in ritiro spirituale a meditare su noi stessi un po' sì però poi se no a che ci serve stiamo bene con noi stessi ma poi non facciamo niente ecco se fosse per me per esempio la stessa da finirei qui ma non posso allora sapete che c'è sempre un giorno superstar segnatevi giovedì io non so che cosa diavolo possa non succedere giovedì abbiamo intanto i tre sì fortuna occasioni connessioni cose che devono ancora vedere la luce che vedono la luce questo giovedì rivelazioni soluzioni non c'è un minimo di carta tematica sì c'è quella degli studi ma scusate mi sembra abbastanza ridicolo ok ci sono anche gli studi che vanno bene sono molto contento questa è la giornata delle grandi soluzioni delle grandi schiarite dei grandi incontri e della grande fortuna ok quindi segnatevi giovedì io non ho altro da dire mi spiace solo un po' che siano uscite tutte insieme qui quando so che le brutte dipende da come si piazzano e qui abbiamo tutto quello di bello che possiamo vedere per le finanze per i finanziamenti per le situazioni bloccate per i risarcimenti e tutto quello che vi deve arrivare e che in questo momento è bloccato quindi anche relativa documentazione ma soprattutto qui arrivano soldi comunicazioni che riguardano le finanze quindi anche risarcimenti ricordate che nel Petito Bruno non abbiamo visto nulla di positivo beh insomma qui direi che quello che di positivo non c'era là ce lo troviamo qui naturalmente è una stesa che ha il suo valore anche dal punto di vista pratico sentimentale quindi qui se avete una situazione che non è né carne né pesce non capite bene se state insieme o non state insieme oggi lo saprete e sono ottime notizie quindi vi arriva anche una sorta di gratifica sotto forma di sicurezza di comunicazione da parte dell'altro allora questo sabato direi che è sabato in cui godersi frutti di tutto quello che abbiamo seminato fino a qui quindi un taglio netto al passato una ritrovata stabilita anche un nuovo modo di comunicare anche questa giornata non ha elementi rilevanti dal punto di vista pratico ma semplicemente un'energia per la quale io metterai la firma tutti i giorni perché è la stabilità delle nostre emozioni la stabilità del nostro magnetismo che è un'ottima cosa perché ci rende anche molto ricettivi e anche notizie che arrivano a colmare delle lacune di qualunque tipo quindi può arrivarvi anche una cartolina per dire ma soprattutto sono comunicazioni che aspettavate da un bel po' chiudiamo ancora domenica e qui mi sa che ecco qua beh fine di una crisi ripresa quindi allontanamento superamento di qualcosa che ci lasciamo alle spalle e andiamo verso un'energia decisamente pulita limpida pura finalmente dopo aver superato qualcosa che ci ha provocato una crisi importante quindi questa cicogna proprio simbolo di rinnovamento sembra proprio coronare quello che abbiamo visto all'inizio con il grand jeu quindi per una volta domenica è proprio il climax di quello che abbiamo visto durante la settimana una settimana che va come vi dicevo increscendo che ci dà soluzioni e che ci fa arrivare a questa domenica rinnovati e finalmente anche con delle energie importanti come sono quelle dei gigli quindi chiarezza serenità pace e tranquillità bene è quello che io auguro a tutti naturalmente quindi il video come potete immaginare è finito io spero che ci rivedremo qua prima di Pasqua ma nel frattempo gli auguri rifaccio a chi dovesse per esempio partire quindi come sempre vi invito a mettere like se il video vi è piaciuto a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e buona settimana un grazie un enorme bocca al lupo a tutti e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartoman Tic ciao